Sì, diciamo che una volta che avevo dribblato il giocatore da Cremonese ho pensato a tirare in porta. Allora sulla fortuna non so, però diciamo che va bene così per noi. Diciamo che oggi è una partita molto difficile, abbiamo corso tanto perché ci siamo difesi tutti insieme quindi magari eravamo un po' meno lucidi sotto porta, però poi ci sono questi momenti delle giocate che va bene così e risolvono la partita e quella è la cosa importante. No, ma ci troviamo tutti bene, ci alleniamo tanto, il mister ci fa lavorare tanto fra di noi a trovarci, abbiamo corso tanto, ci siamo aiutati quindi magari anche Giacomo ha fatto un grande lavoro oggi, quella è la cosa fondamentale. Poi comunque sia, come ho detto prima, la prestazione magari non è stata di altissimo livello ma era importante il risultato. La prima vittoria del gioco di ritorno era una cosa importante che ci voleva per tirarsi anche un po' su di morale perché siamo stati tanto fermi con la pausa dopo Lecce, quindi abbiamo perso anche un po' il ritmo partita, magari quello un po' ci ha penalizzato però innanzitutto pensiamo sempre alla salvezza. Prima viene meglio. Sì, diciamoli sì, comunque sia una partita molto difficile, dobbiamo cercare di giocare di squadra, aiutarci e cercare di portare a casa la vittoria che è una partita molto importante per noi. Il tuo obiettivo stagionale qual è? Il mio obiettivo è come gli attaccanti tutti vogliono fare gol, però in questo momento serve aiutare la squadra e se viene il gol meglio ancora, ma la prima cosa è la squadra, il risultato e per ora quella è la cosa più importante. Grazie a tutti. Grazie a tutti.